E' arrivato il regalo ieri da parte di Empolo per tutta la community, per tutti quelli che sono stati investitori all'inizio di questo progetto, che hanno supportato il progetto, supportato la community, soprattutto con i Geyser, hanno subito i rebates negativi ragazzi. Quindi siamo qui perché vi rimando al mio video dello scorso anno, quando è avvenuto il caso Amplefort, era prima giugno-luglio, quando abbiamo parlato sul canale di questo progetto. Non lo abbiamo poi trattato tantissimo perché semplicemente riguarda magari non tanti investitori e quindi insomma ragazzi nella mia Academy è sempre stato uno degli investimenti miei preferiti, ve ne ho parlato anche recentemente in un video quando vi dicevo quelli che erano alcuni dei miei investimenti preferiti. Sì e ieri è arrivato il BAM ragazzi, un airdrop potentissimo, fantastico, grazie Ample perché ha dato veramente un sacco di tindini. Allora intanto per chi non sapesse cos'è il progetto Amplefort vi lascio sopra la mia testa quello che è stato il video che abbiamo fatto a giugno dove spiegavo tutto il funzionamento di queste tipologie di pseudo stable coin che sono dei sistemi che viaggiano diciamo con una struttura che si chiama rebase ragazzi, in pratica il progetto Amplefort è un progetto linkato ad un dollaro più o meno come valore quindi la moneta non oscilla mai più di tanto, quello che oscilla invece è la market cap. In realtà in quest'anno queste tipologie di token hanno oscillato anche abbastanza ragazzi nella loro struttura, poi tendono a livellarsi a livello di un dollaro però questo non avviene in maniera molto molto veloce. Quindi siamo all'inizio, siamo all'inizio di questi progetti, ci stanno anche questi atteggiamenti. Quindi il meccanismo avviene attraverso una cosiddetto sistema che si chiama rebase. Comunque andatevi a vedere quel video, ve lo lascio in descrizione così capite tutto il funzionamento se non che nella giornata di ieri hanno rilasciato il loro token di governance perché anche loro si sono decentralizzati ragazzi che bella la decentralizzazione un nuovo mondo, un nuovo modo di vedere questa realtà. Non siamo ancora abituati a concepire il concetto che si può partecipare a livello di community a capire dove deve viaggiare uno di questi progetti. Fantastico la blockchain ragazzi, fantastico questo mondo. Ma io dico ma quando se ne accorgeranno anche altre persone, anche tantissimi della possibilità che ci sono in questa realtà ragazzi, quando se ne accorgeranno? Secondo voi? Beh io sono convinto che ci vorrà qualche annetto ancora perché moltissimi sono veramente ancora a comprendere quello che sono le security, le password, le private key e mi riferisco al video delle Iene ragazzi che era una barzelletta però bisogna comprendere anche a chi è dedicato, diciamo a chi è indicato quei tipi di video, sono indicati ovviamente alla massa per cui è giusto parlare in questi termini. Va bene, allora andiamo al dunque di questo video ragazzi e allora vi faccio capire cosa è successo con Ford e soprattutto per chi di voi ha partecipato al progetto Ample Ford facendo anche i Gazer in questi mesi c'è un grande regalo, vi faccio vedere dove fare il claim e poi analizziamo però una cosa che mi interessava cioè quella che è la spiegazione di questo ecosistema di Ample Ford che è stato spiegato ieri anche in un articolo presente su Medium ragazzi è molto bello, anche il motivo che li ha spinti a fare questo tipo di token Ford e soprattutto anche come hanno distribuito il token è interessante soprattutto vedere come ragazzi e poi vi do anche delle dritte da alcuni punti di vista perché moltissimi anche io insomma in questo caso io ho ancora il token ragazzi non sono riuscito a venderlo ai massimi, ieri ha toccato punte di 200 dollari vabbè ok, però io ero in Masterclass, stavo facendo la live con XTB quindi non ero diciamo davanti agli schermi però in generale non mi piace mai fare queste cose di fretta, mi piace ragionare, capire i progetti, capire quello che è dietro e poi andare a prendere le mie decisioni quindi vedremo anche alcuni dati sull'inflazione di questo token e che cosa può succedere. Ok, allora intanto ragazzi prima cosa fondamentale tutti quelli che avete partecipato al progetto Ample Ford, avete fatto un Gazer su Ample Ford basta andare su questo link che vi lascio in descrizione e andare a fare la connessione del wallet con il quale magari avete partecipato al Gazer il wallet che avete utilizzato anche semplicemente per acquistare e poi rivendere Ample Ford anche se vedremo che in quel caso il riconoscimento dell'airdrop sarà inferiore perché c'è un punteggio in questo caso che è stato dato però qui ragazzi voi connettete il vostro wallet poi vi appare la possibilità di fare il claim del token Ford che apparirà magicamente come airdrop sul vostro wallet di riferimento. Ovviamente ragazzi Ford è un airdrop abbastanza riconosciuto è già stato quotato su tanti exchange importanti come Wobby e addirittura Coinbase Pro e vediamo infatti che anche addirittura CoinMarketCap lo ha aggiunto come governance token praticamente quasi subito ragazzi ed è quotato ovviamente viene scambiato su Newswap e poi su Coinbase Pro Wobby e poi altri exchange che sono anche più piccoli. È anche molto interessante andare a capire con la velocità con il quale un token del genere è stato poi scambiato, è stato velocemente messo su exchange importanti questo è significativo, lo sappiamo ragazzi perché exchange magari importanti vanno a coprire magari quelli che sono dei progetti che ritengono un po' più utili. Qui troviamo anche una serie di informazioni estremamente importanti anche per la valutazione del progetto cioè il fatto che il massimo, la massima supply di Ford in questo caso sarà 15 milioni ma torniamo a quello che è questo articolo ragazzi per capire un po' di situazioni. Allora anche questo articolo vi lascio come sempre in descrizione ragazzi quelle che sono questo tipo di link, spero di ricordarmeli tutti in caso richiedetemeli nei commenti. Allora ragazzi andando qui voi trovate una serie di informazioni utilissime su quello che è il progetto Amplefort e che cosa hanno voluto fare con questo rilascio dell'airdrop della loro governance token. Poi in questa struttura, in questa zona c'è scritto anche come funziona il token Ford e ovviamente è tutto legato a quelli che sono gli governance token ragazzi allora che sono dei token che permettono di decidere su alcune decisioni importanti su dove deve andare ad esempio un progetto o no. Per esempio votano quelle che sono alcune modifiche al protocollo queste cose abbastanza rilevanti ragazzi. Perciò un po' è il diritto di voto e di partecipazione all'interno delle decentralized organization ragazzini di DAO. Ok? E questo è il vero significato di questo tipo di token che in questo caso possono essere ovviamente anche prestati a legare i rappresentanti che poi votranno al posto vostro. Insomma ragazzi sono i classici token quelli che abbiamo visto anche su Uniswap per intenderci. Ok? Quindi se dovessimo fare dei confronti dovremmo confrontare questo tipo di token con quelli legati appunto ad Uniswap, a Curb e token similari. Allora quello che ci interessa in questo caso per fare una breve analisi è come verranno rilasciati questi questi token perché poi è veramente interessante. Allora tutti diciamo da parte del team che viene chiamato Early Backers riceverà il 33% dei fort in 67 distribuito all'intera community. Poi andiamo a capire come è stato distribuito e qui ragazzi io diciamo tiro fuori una spada a favore di questo progetto perché ancora una volta mi piace come l'hanno gestita, come l'hanno organizzata e soprattutto anche nella distribuzione come hanno deciso a chi dare questo questi benefit diciamo questi airdrop, questo bonus, questo regalo. Ok? Ok ragazzi allora è insomma sì abbastanza evidente diciamo l'intenzione di questo di questo progetto. Allora sono stati dati dei punti a tutti quelli che hanno intanto usato Amplefort on chain e poi a quelli che hanno partecipato al Geyser, cioè un programma di farming ok? Però mentre chi ha semplicemente scambiato la Crypto Ample riceve un massimo di un punto, chi invece è partecipato al Geyser e soprattutto ha anche subito nei mesi scorsi, nei diciamo in tutto questo periodo un rebase negativo, allora ha ricevuto un punto per ogni giorno ma senza limiti quindi non c'è stato il max, quindi non era accappato. Questo perché ragazzi? Perché hanno voluto riconoscere maggior bonus a quelli che hanno veramente partecipato al progetto e non semplicemente quelli che hanno fatto magari un po' di trading sulla Crypto Amplefort. Questo è intelligente, interessante e soprattutto anche fa capire l'intenzione di questa community, di questo progetto ragazzi, che va a dare benefit a chi effettivamente ha partecipato e soprattutto a chi effettivamente ha subito anche magari dei rebase negativi in questo periodo. Perciò applausi da parte mia a questo tipo di atteggiamento. Poi un'altra cosa che è veramente interessante andare a capire, vabbè qui ci sono tutta una serie di dati ragazzi che trovate appunto i link che vi dicevo e poi un'altra questione appunto molto 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 importante, il modo in cui gli early breakers riceveranno i loro token fort. Perché ragazzi? Perché gli bloccano i token per intanto sette giorni, quindi in questo momento gli sbloccano solo il 5% al team diciamo e a tutti quelli che era la community interna, diciamo non la community quella nostra diciamo. Ok ragazzi, quindi il 5% viene dato ai gli early breakers e però soltanto sette giorni dopo il lancio ragazzi. Anzi facciamo una cosa, vi ingrandisco anche la pagina così vedete meglio un po' queste informazioni. Il restante 95% subisce in pratica una distribuzione soltanto dopo un anno, quindi fra un anno verranno sbloccati i token fort per gli early breakers. Questo è interessante anche perché poi verranno distribuiti questo 95% nei due anni successivi e poi è stato dato un tasso di inflazione del 2% all'anno per questo progetto, quindi è anche questo diciamo un'inflazione predefinita importante, mentre in pratica ragazzi il 33% dell'intera supply verrà dato semplicemente il 5% fra qualche giorno e poi il restante 95% fra un anno verrà distribuito. Questo riduce ovviamente la presenza di massicci ordini di vendita da parte degli early breakers ragazzi. Ok, questo è la volontà del progetto. Una cosa, una chicca che mi è piaciuta tanto, la parte finale dove c'è in una nota il 2,5% viene tolto dalla intera community per essere devoluto a una community di education program, quindi un fondo pubblico di educazione. Questa cosa è ovviamente la classica, il classico devolvere a organizzazioni benefiche è un po' quello che si fa. Allora, questo è il funzionamento di Ford, andiamo anche a dare un'occhiata alle oscillazioni per esempio del token che in questo momento è molto molto ben messo, ragazzi quota 50. A livello di market cap non abbiamo dati rilevanti per esempio su quant'è la market cap in questo momento, abbiamo soltanto la quella totale, quella che sarà alla fine del percorso, quindi insomma passati tutti questi anni che è 700 milioni ragazzi. Da un punto di vista invece di analisi grafica ragazzi abbiamo ben poco, quindi soltanto una mezza giornata. In realtà io ieri ho visto anche il token quotare molto di più, circa 200, 200 dollari, questo perché sto usando per esempio Wobby, ma se lo vediamo ecco ad esempio su Uniswap risulta insomma un po' più movimentato perché ha fatto maggiori scambi. Quindi in questo momento intorno ai 50. Conviene o non conviene? A me quello che interessava dirvi in questo progetto è che cosa è successo su questo progetto di Ampol per chi di voi ha seguito fare il claim, mi raccomando ricordatevi questa cosa e poi mettere il point d'eminenza, i punti, quelli che vi ho detto prima, cioè la bellezza della decentralizzazione. Perché no ragazzi? Che mondo nuovo, che mondo diverso, che cosa stiamo vivendo in questo periodo? Io penso lo ricorderemo per sempre, lo racconteremo veramente ai nostri figli barra nipoti. Ciao a tutti ragazzi, fatemi sapere se anche voi siete dentro e avete i fort. Ciao!